Il mio consueto ben trovato al pubblico di Blog Sicilia che segue queste nostre trasmissioni speciali di Talk Sicilia elettorale. Mancano ormai poche ore alla chiusura di questa campagna elettorale e di questa chiusura degli ultimi sprazi di questa campagna elettorale parliamo con Renato Schifani, candidato alla Presidenza della Regione. Buongiorno, grazie per essere tornato a trovarci in questi studi. Lui è già stato qui in apertura della campagna elettorale, torna in chiusura per dedicarci questi altri 24 minuti nei quali, come sempre dico, vi raccontiamo le idee dei candidati in modo che possiate farvi una precisa opinione per scegliere consapevolmente all'interno della cabina elettorale. Un po' è questa la nostra missione di rinformare durante le elezioni. Presidente Schifani, come è andata, possiamo dire, questa campagna elettorale? Vi sentite soddisfatti finora? Ma io sono soddisfatto per due motivi. Sono riuscito a girare tutta la Sicilia nel giro di tre settimane perché non è che avessi preparato prima come altri una campagna elettorale perché sono stato candidato, non ero candidato, sono stato candidato quindi una settimana per preparare lo staff e altre per girare. Però nonostante il tempo ristretto ho trovato attorno a me tutto il popolo del centro-destra entusiasta, contento, condiviso questa possibilità, quasi ormai posso dire certezza di vincere le elezioni ed evitare quello che era successo nel 2012 quando ci siamo divisi e abbiamo perso. e abbiamo spiegato, detto, non più che spiegato, il popolo italiano, il popolo siciliano, un popolo intelligente come quello italiano, che occorre serietà, autorevolezza e convinzione delle proprie idee per portarle a Roma e risolverle e devo dire che gli elettori credono in me per quella che è la storia, la responsabilità che ho sempre dimostrato e che porterò avanti quando mi confronterò con i ministri che tendenzialmente conoscerò perché sarà un governo di centro-destra quello nazionale. Uno dei grandi temi di questa campagna elettorale è l'incognita, l'incognita cateno De Luca, la definiamo un'incognita ma è anche un tema di scontro, confronto, discussione, polemica. L'ultima polemica in questo tema è quella riguardante il cosiddetto voto disgiunto. De Luca sostiene che Bosa si raccoglierà dal centro-destra. Guarda, è un tema che pompa lui perché ha detto che il prezzo di centro-destra lo voterà. Ieri Giorgia Meloni è stata chiarissima, penso che il leader, non c'è bisogno nemmeno di chiarirlo perché io giro la Sicilia, il popolo è con me, con me per la mia storia e l'altro. Poi Cateno De Luca sta lavorando su questo e ho visto delle iniziative dove addirittura dice votate qualunque candidato, purché votiate mai. Quindi ha abbandonato i propri candidati e le proprie liste. Non mi pare che questo sia un fatto di etica politica. Al di là degli atteggiamenti, insomma, ha mandato a quel paese, dico a quel paese ma è stato molto più volgare nei confronti del ministro degli interni, si è denudato, insomma, ha offeso voi giornalisti. Io non voglio polemizzare, però credo che i siciliani siano abbastanza seri per capire come un personaggio del genere sarebbe soltanto in assurdo o non verrà mai eletto, ma in ogni caso, nella ipotesi assurda, rappresenterebbe un danno per la Sicilia. Sicuramente non ci sarebbe possibilità di essere ascoltato da una classe politica nazionale di livello come quella che è a Roma. I nostri competitor, di fa, a prescindere da Cateno De Luca, sono poi in realtà Catarina Chimnici, che è il competitor più tradizionale, fra virgolette. Certo, una persona per bene, una persona che ho detto altre volte che stimo, è stata assessore quando ero Presidente del Senato, ci siamo incrociati più volte per motivi istituzionali, una persona che sta facendo la propria campagna elettorale, con i propri temi, con correttezza, ma alzando i toni, come è il suo stile, naturalmente. Sono temi che mi allontano da lei, perché io ho detto tre sì, provincia, termovalorizzatore e ponte sullo stretto, e lei ha detto tre no. Quindi sono due modelli di società che si contrappongono l'uno con l'altro. C'è maggiore similitudine invece con l'altro competitor, che è Gaetano Armao. Beh, Gaetano ha fatto questa scelta all'ultimo minuto, e si è assunto, voglio dire, ognuno di noi, è stato con noi, cinque anni, Vice Presidente della Regione, pur non essendosi candidato. Ha fatto lo stesso bilancio, pur non essendosi mai candidato. Non me l'aspettavo, ma ha deciso di salire sulla scialuppa galenda, che non è che ha possibilità di sbocchi. Qui non voglio dare giudizi, ma non lo trovo. A livello nazionale la vittoria del centro-destra sarà, secondo i sondaggi, quelli pubblicati quando si poteva. La vittoria del centro-destra sarà talmente schiacciante, talmente autoreferenziale, che non avrà bisogno, certo, dei voti di Renzi e di Calenda. Quindi anche quella esperienza, secondo me, del terzo polo, è tesa poi a spegnersi. Questo il panorama. Ma adesso parliamo di programme. In passato abbiamo parlato in altre occasioni, di altre interviste di ponte sudostretto, di infrastrutture, eccetera, ma ci sono alcuni temi che possiamo approfondire meglio. Ad esempio, il grande tema della continuità territoriale, che non può passare soltanto attraverso il ponte sudostretto. È un tema che riguarda il collegamento della Sicilia con l'Italia, nei collegamenti anche con le isole siciliane. Io infatti sono venuto nella determinazione, anche dopo averci pensato con molta riflessione, che terrò per me una delega che ritaglierò dai vari singoli assessorati. La delega è per le nostre isole, per la tutela sanitaria e dei trasporti delle nostre isole. Meritano un'attenzione specifica, non che in passato gli assessori, i vari assessori, non se ne siano occupati. Però siccome i temi delle nostre isole sono giuridicamente spezzettati, l'assessore dei trasporti, l'assessore della salute, eccetera, questo tema me ne occuperò personalmente io, perché ritengo che occorra concentrare su una persona tutta la casistica delle tematiche che toccano le isole, non frazionarle, ma il frazionamento è dovuto all'impianto legislativo delle deleghe. Questa responsabilità penso di assumerlo personalmente io. Per quanto riguarda le isole, per quanto riguarda la continuità territoriale, invece con il resto del Paese ci sarà data a confrontarsi con Roma. Sì, noi abbiamo ottenuto e abbiamo votato l'inserimento in Costituzione del principio dell'insularità. Questo principio non resterà carta scritta. Io mi batterò, mi batterò e farò sentire a Roma la nostra richiesta, con responsabilità ma anche con convinzione, contando sul fatto di essere personaggio che per la propria storia viene rispettato dagli ambienti romani, per fare in modo che questo principio poi trovi un'attuazione nelle normative, perché vede, i principi costituzionali sono principi di fondo, poi vanno traslati nelle norme attuative, perché se no rimangono carta scritta. Tanti principi nella nostra Costituzione poi trovano attuazione. E questo è un principio per il quale chiederò subito attuazione. Significa misure compensative, misure compensative sul costo dei trasporti, per quanto riguarda il movimento quantomeno dei siciliani. Questa è una compensazione, una compensazione su una maggiore riduzione del contributo della Regione allo Stato per il Servizio Sanitario Nazionale, perché ci deve essere riconosciuto il principio dell'insolarità anche in questo, la compensazione. Quindi aprirò un confronto con il Governo nazionale, forte di questo principio costituzionale, quindi avrò un supporto forte da cui partire. Sarà una battaglia forte da portare avanti, anche perché altri principi che hanno valore costituzionale, come alcuni contenuti dentro lo Statuto autonomistico, troppo spesso sono rimasti carta straccia, se non dimenticare. Beh, l'articolo 36 è stato svuotato, ma non adesso, dai predecessori miei, che non erano eletti direttamente dai cittadini, dipendevano dai governi nazionali, e quindi i governi nazionali, avendoli nominati, poi facevano man bassa all'articolo 36, che è stato svuotato. Quindi quello è il tema? Non succederà più quello che ci vuole dire. No, ma con l'elezione diretta del Presidente della Regione, l'autorevolezza del Presidente, perché nasce dalla legittimazione popolare, tanto che mi permetto di ricordare che il Presidente della Regione Letta non è che si presenti in aula alla Regione, nelle singole Regioni e chiede il voto di fiducia, è stato eletto direttamente, mentre paradossalmente il Presidente del Consiglio, secondo la nostra Costituzione, ha bisogno di voto di fiducia, quindi ha una legittimazione forte. Un altro tema che abbiamo accennato parlando di isole è quello della sanità. Qual è la condizione della sanità siciliana? I suoi competitor parlano di una sanità disastrata, ma lei durante un incontro catanese di questi giorni ha avuto anche modo di confrontarsi con l'attuale Assessore alla Sanità. No, io ho ascoltato con attenzione quello che ha fatto l'Assessore Razzi, ha fatto una relazione di 40 minuti, ho visto, non conoscevo quello che avesse fatto, perché mi sono occupato di politica nazionale, quello che ha fatto è una sua prospettazione, naturalmente è uno scenario sicuramente di atti concreti. Poi se vi sono stati momenti di incompatibilità con il mondo medico, questo non sta a me valutarlo, io, ripeto, entro adesso e mi pongo come persona di continuità del governo musulmanico, del governo musulmanico dell'Italia, perché è un governo che non ha sfigurato, ha gestito tanti dossier delicati. Un altro dei grandi temi di queste ore è quello della crisi energetica, che sta mettendo in ginocchio moltissime aziende, mettendo in difficoltà le famiglie, non soltanto siciliane, ma in Sicilia forse pesa più che altrove per le condizioni generali. Come affrontare questo? Perché è fondamentale, è urgente. Guardi, io ho studiato con i miei esperti un attimo la tematica delicatissima e quasi tragica di questi giorni. Addirittura mi sembra di intravedere nelle dichiarazioni di Putin in queste ore un irrigidimento ulteriore quasi pericoloso sulla tensione anche bellica. E ho trovato, sto lavorando, ho lavorato a un'ipotesi che ci porterà entro la legislatura all'autonomia energetica per un semplice motivo. Noi, i nostri mari, anche se offshore, cioè fuori dalla piattaforma, sono pieni di gas. Il progetto Cassiopea, che lei sicuramente conoscerà, Gela, è in fase avanzata di realizzazione, Cassiopea-ENI, e produrrà tale quantità di gas da soddisfare il 40% del fabbisogno siciliano. Io lavorerò perché le procedure si accelgiano quanto più possibile, ma già il sindaco di Gela si è dimostrato sensibile, sono stato a Gela, ha detto che le utilizzazioni sono quasi rilasciate. L'ENI è pronta a partire, occorreranno un paio di anni per realizzare il gas sotto, il gas c'è in grande quantità, ma c'è anche in altre realtà, per cui guarderò a queste situazioni, diciamo, di offshore, sott'acqua, piena di gas, con grande, grande, grande attenzione, perché abbiamo delle risorse che tra l'altro ci daranno anche delle risorse di carattere economico, perché le sa che alla regione prospettatrice dell'offshore spetta una quota delle imposte che poi si pagheranno. Quindi sono convinto che con i miei esperti, con questi progetti, utilizzando altre prospezioni che sono in corso, raggiungeremo l'autonomia energetica. Altro grande tema che si affronta in questi giorni nel settore energetico è quello di un maggiore utilizzo di eolico, di fotovoltaico. Certo, il fotovoltaico, l'eolico, non so fino a che punto, perché funziona, ma incide in percentuale limitata rispetto al fabbisogno complessivo. Ma l'altro, sicuramente, il fotovoltaico va incentivato e va agevolato. Vanno semplificate però le procedure autorizzatorie, questo è il problema che io ho trovato. C'è una Sicilia ferma, sotto il profilo del tema delle autorizzazioni e lì daremo una fortissima accelerazione come conto di darla su tutto il tema autorizzatorio. L'Italia, la Sicilia è stata bloccata perché tanti investitori, l'ho detto nella presente trasmissione, tanti investitori, anche i fondi di investimento, puntavano sulla Sicilia ed è stato detto un nì, né sì né no. E questo, mi impegnerò moltissimo sulla semplificazione delle procedure e su una burocrazia che comunque si assuma le proprie responsabilità in tempi brevi. Le faccio un esempio, sono stato nel Ragusano, ieri l'altro, ho visitato varie realtà eccezionali e produttive, il mercato di Vittoria e ho avuto notizia che giace inutilizzato un finanziamento di 4 milioni per ristrutturare alcuni capannoni, sa quando risale a 8 anni fa, somme stanziate, ancora i lavori demarcializzati, non è certo colpa alla politica o anche colpa alla politica, ma anche colpa di qualcuno. Una cosa che stentavo a crederci, eppure è così, queste cose non le tollererò più, mai. Occorreranno probabilmente delle riforme da questo punto di vista, perché forse... Beh, questo, guardi, questo non credo sia un fatto di cattiva riforma, questo è un fatto di cattiva amministrazione, proprio perché... Quindi incidere direttamente sulla gestione amministrativa prima... Beh, a 8 anni qualcosa non ha funzionato. Qualcosa non ha funzionato. Ma cercherò di capire che cosa non ha funzionato per evitare che cosa del genere si possano ripetere. Poi darò un'accelerazione a un processo di semplificazione legislativa, perché se c'è un provvedimento che ha bisogno di 7-8 pareri per arrivare poi a buon fine, non è che deve fare 7-8 passaggi, io valorizzerò la conferenza dei servizi, sa, la conferenza dei servizi è un organo che vede componenti irresponsabili dei vari settori amministrativi che devono dare pareri, si riuniscono e anziché la pratica girare prima una volta, poi l'altra, poi l'altra, attorno a un tavolo ognuno dà il proprio parere, contestualmente, e questo sa quanto si semplifica moltissimo, io ho fatto diritto amministrativo e conosco queste procedure e sono procedure vincenti, l'importante è volerle e controllare. Quindi non 7-8 passaggi, ma 7-8 passaggi intorno a un tavolo. Questo poi se salta una volta, se non viene il rappresentante di un ufficio va bene, ma se viene, se manca una volta, due volte, tre volte, allora la quarta volta il paese interderezzo. Chiaro. Allora, abbiamo parlato di, nella trasmissione precedente di Ponte sullo Stretto e di Infrastruttura, in questa stiamo parlando di Offshore, ma non teme un confronto che si rischia, possa essere aspro con gli ambientalisti che contro tutto questo sono schierati, termovalorizzatori, sto facendo delle... Sì, ma noi dobbiamo, io credo che i siciliani, anzi, no credo, i siciliani sono persone responsabili e Renato Schifani ha dimostrato la sua vita, almeno per quello che è l'opinione pubblica, è una persona responsabile. Io adotterò il massimo della cautela sulla tutela dell'ambiente, ma vede, ormai la tecnologia è talmente avanzata che qualche termovalorizzatore lo trova lei in alcune città del nord, nel centro della città, allora capisco che sono di dimensioni più limitati, quindi è inutile, diciamo, farsi bloccare da certe proteste, se fossero fondate, se ci fossero problemi di vero inquinamento, le discuteremmo, come le discuterei, sono pronte, però ormai credo che, siamo nel 2022, tanti sistemi sono arci sicuri, quindi l'ambientalismo, io guardo la tutela all'ambiente, però tutela all'ambiente che sia contemperante anche con un modello di crescita economica del nostro territorio, perché se no faremo male a noi stessi. uno dei temi che i suoi competitor sostengono essere scomparsi da questa campagna elettorale è la lotta alla mafia. No, beh, io ho detto sempre che la nostra azione sarà quella di contrasto a qualunque forma di infiltrazione della mafia, della cosa pubblica, anche perché la mafia non è né di destra né di sinistra, perché va col potere, staremo molto attenti e vigileremo. Io quando ho dovuto fare approvare le leggi sulla stabilizzazione del carcere duro e sul sequestro per equivalente che ha inasprito i sequestri e dato colpi ai patrimoni mafiosi, l'ho fatto mettendoci la faccia, una è del 2002, una è del 2008, l'ho fatto col consenso, anzi con l'avallo e con la condivisione del Presidente Berlusconi. Quindi la mafia per quanto mi riguarda l'ho combattuta diciamo in maniera concreta dando agli inquirenti in mezzi legislativi per poter colpire la mafia non solo sulla detenzione ma su quello che è il cuore della mafia, gli interessi patrimoniali. È chiaro che quando poi leggo dai giornali che il Vice segretario del PD Provenzano sostiene che arrivando al centro-destra il PNR ad andare a finire nelle mani della mafia mi indigno perché dico pubblicamente io ho dimostrato di farle le leggi il PD non mi risulta che abbia fatto leggi antimafia, uno. Due, se ha elementi vada in procura e denunzi. Quindi nessun tipo di rischio nella gestione del PNR? No, saremo rigorosi, attenzione, saremo rigorosissime, non è che nessun tipo di rischio. Io ho detto che la mafia non è di destra di destra, che cerca di entrare nel potere. Non escludo che tenti di farlo ma troverà delle barriere di controllo, di verifica molto, molto, molto rigorose, introdurrò dei sistemi di controllo che condividerò con gli assessori o con gli esperti e chiederò anche il sostegno e l'aiuto dei prefetti nel rispetto dei ruoli istituzionali perché al sospetto di infiltrazione si dia una risposta abbastanza forte perché pianeta è un'occasione che non possiamo perdere ma comunque non possiamo perdere questa come non possiamo perdere nessuna iniziativa che faccia crescere il territorio e si blocchi per l'infiltrazione mafiosa. Uno dei temi che abbiamo già affrontato ma che è opportuno secondo me tornare ad affrontare e ne abbiamo accennato è proprio quello della macchina amministrativa. Abbiamo visto come nel PNRR spesso qualcosa si è inceppato perché non siamo stati in grado di presentare progetti utili e abbiamo visto tanti di questi problemi e sicuramente Nello Schifani così come si indigna di otto anni di finanziamento che restano nel casetto si indigna di aver perso questi finanziamenti. Come contrastare questo tipo di andamento? Beh, innanzitutto ho preso che queste settimane dovrebbero essere messi in ruolo alcune decine di vincitori di concorso che sopperiranno a quei voti che hanno determinato vicende come questa e vicende anche come il blocco del pagamento dei debiti della regione nei confronti delle imprese ieri su Stato Financi è un fatto inaccettabile l'ho denunciato anche il Presidente Musumeci giorni fa quindi ci sarà per fortuna un pinguamento delle risorse umane poi naturalmente daremo un segnale forte e il segnale forte intendo ribadirlo non ci saranno direttori con testa di partito cioè i direttori saranno direttori di un settore perché sono bravi se non sono bravi non ci sarà partito che tenga alla loro rimozione Ma li abbiamo tutti questi dirigenti generali bravi? Io mi auguro di trovarli spero fortemente sono una persona che crede anche nella provvidenza e crede anche nel buonsenso io spero e sono certo che comunque qualche eccellenza delle eccellenze ci siano probabilmente magari saranno state sacrificate devo pensare alle scelte di carattere partitico insomma però io ripeto guarderò senza infingimenti di carattere politico alla loro capacità così perché adotterò vede il criterio che adotterò per l'aggiunta assessori l'ho detto l'altra volta lì assessori competenti del ramo che saranno chiamati ad amministrare assessori tutologi assessori perché devono fare l'assessore non ce ne saranno con me Il PD parla di 300.000 assunzioni alla pubblica amministrazione tantissime da mandare nei comuni alle regioni soprattutto al sud vedremo vedremo un poco che cosa ne verrà su questi grandi numeri io sono sempre non dico perplesso sempre sempre cauto naturalmente dico anche che la pubblica amministrazione deve puntare anche al governo regionale punterà anche alla semplificazione ma anche alla digitalizzazione perché il processo è partito deve essere spinto quello della digitalizzazione perché i tempi si riducono moltissimo nei processi decisionali che dovrebbero essere appunto assunti in tempi quasi immediati quindi noi questa occasione l'abbiamo poi è evidente che l'assunzione di alcuni comparti va effettuata perché c'è stato un turnover e naturalmente su tre che vanno via magari se ne assume uno soltanto perché con la digitalizzazione c'è meno esigenze di mano d'opera ma lì deve sopperire il privato in particolar modo per la Sicilia il privato come? investendo ma se al privato si impedisce di investire perché si dice no alle autorizzazioni ecco come vede la disoccupazione aumenta digitalizzazione dunque come elemento fondamentale per la crescita e per lo sviluppo qualcosa è stato fatto negli ultimi anni in Sicilia c'è ancora da fare? qualcosa è stato fatto è stato avviato io ripeto lo riconosco che è stato fatto ma questo percorso va continuato va valorizzato va tenuto sotto controllo però si è iniziato io non posso negarlo a questo vede io non sono una persona che demolisce quello che è stato fatto dagli altri lo farei anche se il mio predecessore fosse un governo di centrosinistra cioè quello che c'è di buono va preso adesso il nostro tempo sta per scadere come faccio sempre verso la fine di questa trasmissione chiedo Renato Schifani si rivolga direttamente agli elettori dica perché quindi votare Renato Schifani quali sono le prime azioni che porterà avanti e quindi perché sceglierlo? ma una innanzitutto il popolo di centrodestra fiducia in me non si lascia ingannare da particolari soggetti che sostengono di appartenere alla nostra alla nostra coalizione con dettagliamenti molto discutibili il popolo di centrodestra crede in me io mi impegno sono stato chiamato a questo impegno mi impegno ad attrarre investimenti per dare lavoro ai nostri giovani a lavorare molto sulle infrastrutture a dare autonomia energetica alla nostra terra a dare una svolta che deve essere una svolta di concretezza cose concrete poche chiacchiere poche chiacchiere molte scelte a volte coraggiose a volte dirò anche dei no perché la politica la mia politica è stata sempre quella del dialogo del confronto ma poi della decisione e quindi in estrema sintesi nei primi cento giorni prima azione ma istituiremo le province naturalmente lavoreremo subito sul progetto dell'autonomia energetica attiveremo le procedure per la realizzazione del ponte seguiremo i lavori che stanno per essere appaltati i ferroviari per la Palermo-Catania Catania-Messina daremo sicuramente immediatamente segnali a questo aspetto una tutela del lavoro femminile del lavoro femminile sia a casalingo che in impresa e poi controllo controllo sulla trasparenza della pubblica amministrazione bene queste le idee di Renato Schifani per la regione siciliana ormai poche ore al voto speriamo di aver contribuito a far sì che vi formiate una opinione da portare poi dentro la cabina elettorale grazie a Renato Schifani che ha dedicato ancora 24 minuti alla nostra trasmissione grazie soprattutto a voi per averci seguito e appuntamento al prossimo Talk Sicilia a presto a presto a presto Grazie a tutti.